E proseguiamo con un'altra cantante, Sara Iachetta. Ecco, io veramente mi chiedevo, ma finiremo di parlare di femminicidio? Enrichi Anelli dice proprio, la violenza finirà. Allora, con questo brano presentiamo Sara Iachetta, a te il palco. Sara Iachetta Donne per il futuro, donne in un mondo nuovo, donne che si battono per la libertà. Donne che si muovono, figli e madri e donne, donne senza violenza e la violenza finirà. Nella nostra voce, nella nostra anima, c'è la nostra storia d'amore e verità. Donne per il futuro, donne in un mondo nuovo, donne che si battono per la libertà. Donne che si muovono, figli e madri e donne, donne senza violenza e la violenza finirà. Donne che si muovono, figli e madri e donne, donne che si battono per la libertà. Donne che si muovono, donne che si muovono, donne che si muovono, figli e madri e donne, donne senza violenza e la violenza. Donne che si muovono, donne che si muovono. Donne che si muovono, figli e madri e donne, donne che si muovono. Grazie per la visione!